13 anni fa il terremoto dell'Aquila che devastò 56 comuni delle province dell'Aquila, Teramo e Pescara seminando distruzione e morte. 309 le vittime, oltre 1.600 i feriti, 200 dei quali in gravi condizioni 100.000 gli sfollati e danni stimati per oltre 10 miliardi di euro. La scossa più devastante sorprese la popolazione nel sonno alle 3.32 proprio del 6 aprile. L'immagine della casa dello studente devastata dal crollo resta l'immagine simbolo di quella tragedia. Fu una scossa la più devastante lunga, 23 secondi interminabili. Parte di una lunga sequenza cominciata due mesi prima e terminata stando ai sismografi solo lo scorso anno. Uno sciame infinito che ha messo a dura prova non solo le strutture ma anche i nervi della popolazione colpita, le prese con continui moti e continui stati di allerta. E dopo l'emergenza scosse sui tempi lunghi della ricostruzione si è abbattuta anche la pandemia, come dire, piove sul bagnato. Ecco perché i segni di quella tragedia a 13 anni di distanza sono ancora ben visibili all'Aquila. Ecco perché i segni di quella tragedia a 13 anni di distanza sono ancora ben visibili all'Aquila.